sigillando definitivamente cerchio medianico k attraverso marco a cura dvb guida spirituale morire a se stessi dunque è esclusivamente abbandono della materialità nel senso mistico del termine abbandono della materialità perché pienamente vissuta intesa come io sigillando definitivamente la propria spiritualità la propria vita ad un perfetto amore ad una perfetta sintonia col dio del tutto a voi figli e fratelli sembrano lontane queste consapevolezze eppure nulla è più vicino a voi perché la fonte da cui esse provengono è proprio in voi perché la verità che io vi dico è la vita stessa che la dice è la sapienza che è in voi la sapienza siete tutti voi non solo queste parole sono scritte per voi dunque ma sono scritte da voi da sempre nell'eterno morire a se stessi è proprio questo senso di grande letizia di grande gioia che si prova nell'annullamento del proprio io in quel mare meraviglioso che sono le altre creature tale annullamento che non significa negare in quel mare inizia ad un certo punto dell'evoluzione quando si capisce che tutto ciò che si vuole soltanto per se stessi non dà nessuna gioia non dà nessun senso di pace quando si capisce che non ha senso voler accumulare denaro e volersi accaparrare la stima dei propri simili quando si capisce che tutto questo non soddisfa ovvero non basta più allora l'individuo comprende che deve trovare una nuova strada per andare avanti e comincia a scoprire il mondo che lo circonda dapprima inteso come natura ed in genere nella maggior parte dei casi come dio